Porca puzzarda, c'è un Wither! Non preoccupatevi però, questo Wither non è pericoloso Allora Wither, costruiscimi qualcosa, qualsiasi cosa per favore Costruiscimi una mini casetta, sottoterra però, se no perdi tempo Ok, vedete, vedete, lui praticamente mi segue tutto quello che dice Raga, è assurdo, questo è un animaletto di Minecraft Che io non sapevo esistesse, com'è possibile che succeda ciò? Cioè poi mi sente, capito? Wither, quanto mi vuoi bene da 1 a 10? Fai tipo così, eh tantissimo vero? Sì, bene, mi fa piacere, ora continuo a costruire Raga, cioè è assurdo, questo animaletto lo possiamo portare in animaletto Che poi vabbè, animalone raga, cioè è uno spulcello bellissimo Cioè praticamente lui, ah, lo possiamo portare ovunque praticamente E sto qua, ehm, può distruggere l'ender dragon Pensateci, può spaventare degli amici sul server magari Sarebbe fighissimo Tipo dico, ah Wither, uccidimi questo ragazzo E lui lo fa E comunque sei un po' lento a costruire Cioè più veloce, per favore Più, più veloce No, no, più, più veloce No, non mi stai... Più veloce, ok Ok, bravo, sì, così Vedete raga, lui ci prova sempre È un Wither un po' che ci prova Però, cioè, no, nel senso Raga, non ha senso tutto ciò Wither Dove sei? Ciao, allora Praticamente dobbiamo... Grazie Non ti ho ancora chiesto niente, però brutto stupido Perché io non... Però non mi ha dato l'effetto Cos'è successo? Non mi sta dando l'effetto Vabbè, basta, basta Grazie, 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 grazie Vabbè, allora, praticamente Dovresti darmi un'armatura Cioè, un'armatura In tutte in nederite, capito? Perché dobbiamo affrontare la magione La magione divina, praticamente Ed è fortissima questa magione Quindi ho bisogno dell'armatura in nederite immediatamente Oh, grazie, raga Vedete, cioè È un animaletto bellissimo Ma perché non posso... Ah, ho capito Ora posso farlo Perfetto Ok, perfetto Mi sono coverato tutto quanto in debris Adesso Dammi, ovviamente Lascia in debris Grazie Perfetto Ok, grazie, grazie No, basta, così Basta, così Tecnicamente io ora posso entrare Chiaramente tu stammi dietro con le pozioni Grazie per il tridente Molto gentile Molto questo Il totem del non-motto Ma, raga, ma vedete quanto è figo? Mio Dio È bellissimo poter avere... Eeeh Pure le vele d'oro Assurdo No, perché bisogna dargli comandi chiari, raga Perché lui non è che capisce spesso Cioè, tipo Se gli dico Salta giù, salta su Salta destra, salta sinistra Impazz... Vedete, è impazzito tutto Ok, basta, basta, basta Segui... No, 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 no Fermo Seguimi Perché lui può distruggere tutto E potrebbe anche piazzare la TNT Ehm... Per sbaglio E che noi non lo vogliamo, chiaramente No, vai vi... No, 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 no Fermo, fermo, fermo Per carità Non si... Ok, brava, brava Le pozioni vanno bene Molto bene Ok, perfetto Seguimi Ehm... Allora, tecnicamente Comunque questa magione Wither Dimmi tu Ma come mai è così vuota? Cioè, non c'è nessuno È un po' strano come cosa Vabbè No, questo è uno di questi cosi Però, tecnicamente Io potrei ucciderlo in pochissimo Wither, aiutami a sconfiggerli Uccidili con la tua forza supra Vediamo un attimo Il Wither Ehm, raga Come fa? Dio mio Ci sono troppi di questi cosi Ma tranquilli Che io Li uccido No, sto morendo Sto perfettamente morendo Purtroppo Perché Ah! Uccidi, 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 uccidi Uccidi, uccidi Perfetto Grazie, signor Wither Lei è proprio gentile da parte sua Allora, senta un poco Ehm Sa Ma grazie Ma che gentile Wither, vieni con me Grazie Allora, è stato bello poter conquistare questa magione insieme In realtà Questa magione Non me l'aspettavo È stato molto una delusione Aspetta Ha scritto qualcosa Posso farla esplodere? No Allora, signor Wither Io capisco che lei sia proprio arrabbiato Però non può far esplodere un'intera magione Cioè, nel senso Dipende Quanto lo vuole da 1 a 10? Ehm, tantissimo Va bene Allora vai, vai, vai Beh, però almeno mi fa piacere che me l'abbia chiesto È molto bello da parte sua Beh, si diverta qui nel suo parco giochi, signor Wither Io poi dopo Ci rivediamo dopo Ciao, ciao Iscrivetevi, mi raccomando Ciao